Ci hanno quasi mille persone, poco meno di mille tifosi qui a Binogone, insomma nel marco di Novo. Scusa Francesco, noi vediamo dei cartelli stradali adesso come immagine curiosa da Binogone, ma di che si tratta? Si tratta di una curiosità, c'erano dei tifosi che hanno portato con i segnali stradali, quelli con i limiti di velocità 30. Ebbene, la polizia municipale e gli urbani hanno visto dei segnali e sono stati sequestrati. Uno di questi è stato Peco Extratto, tra l'altro quello che è stato sequestrato da un vittimo, immagine davvero curioso, era quello che il tifosi ha fatto per fare a Balzagli, che si era fermato proprio per fare gli autografi. Quindi i signori stradali qui a Torino dicono che tanti di questi con i limiti di 30 sono stati spostati dalle strade, due li hanno portati per essere autografati per Binogone, uno è stato sequestrato dalla polizia municipale. Secondo me devono mettere il limite di velocità a 28 e non li porta via nessuno, i settori stradali.